168 persone controllate, 84 tra autoveicoli e moto ispezionati e il bilancio conseguito da carabinieri di Gela durante il weekend nell'ambito dei servizi al fine di contrastare le stragi della sabato sera. I militari dell'arma hanno segnalato un giovane di 23 anni per uso personale di sostanze stupefacenti. È stato soppreso in piazza Salandra, nella zona retrostante del teatro comunale, mentre era intento a fumare dell'ascis. Una successiva perquisizione personale ha consentito di trovare 0,25 grammi della stessa sostanza stupefacente custodita all'interno di una tasca dei pantaloni. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo 12 motocicli per il mancato uso del casco protettivo ed elevate 3 contravvenzioni per mancata copertura assicurativa e 7 contravvenzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza. Deferito in stato di libertà la procura della Repubblica di Gela per guida in stato di brezza, un gelese di 50 anni operaio ha resosi responsabile di un sinistro stradale che fortunatamente non ha causato né vittime né feriti. Giunti sul posto per eseguire i rilevi del caso, i militari dell'arma hanno percepito che il conducente del mezzo causa del sinistro stradale si era messo alla guida nonostante un tasso alcolemico ben superiore al consentito. Espletati controlli di dito attraverso l'uso della strumentazione a bordo dell'autoradio e poi dopo con il prelievo ematico presso l'ospedale è emerso che l'uomo aveva un tasso alcolico tre volte superiore a quanto consentito dalla legge. Durante i controlli che hanno interessato la zona del lungomare Federico II di Svevia, piazza Salandra, via Rossini e il Corso, sono stati fermati anche due soggetti di nazionalità tunisina, entrambi maggiorenni, alla guida di un motociclo. Il conducente, sprovvisto di patente di guida valida in territorio italiano, è stato sanzionato per guida senza patente, mentre il passeggero di 34 anni, bracciante agricolo, con precedenti penali a seguito di accurate controlli, aveva il proprio permesso di soggiorno irregolare in quanto non rinnovato. Per questo motivo è stato inviato verso la questura di Ragusa, competente per residenza, al fine di regolare la propria posizione. Se non avesse ottemperato agli obblighi di legge, per lui sarebbe scattato in automatico il rimpatrio in Tunisia. Sempre durante i controlli sono stati denunciati due gelesi, entrambi noti alle forze dell'ordine. L'accusa è riciclaggio e ricettazione di un ciclomotore rubato circa un mese fa. I due ragazzi sono stati infatti sorpresi alla guida di un motorino, la cui targa era palesemente contraffatta.